Ciao a tutti, allora faccio questo video perché lo sentivo necessario, con una premessa, io non ho Netflix, perché come sapete a me le serie tv non interessano in linea generale, quindi dato che ho altri canali per vedere film, tra cui la buon vecchia, il buon vecchio acquisto di DVD che penso di essere rimasto l'unico, non ce l'ho, non mi serve. Tuttavia, quando si fanno le classiche serate che ormai vanno di moda, Netflix and chill with friends, da amici che hanno Netflix, solitamente si guardano delle cose. E io ho scoperto che Netflix è una manna dal cielo per i film involontariamente orrendi, trash, talmente brutti che ti fanno vedere delle risate epilettiche. E ovviamente io e i miei amici abbiamo avuto questo slancio alla ricerca di film inguardabili su Netflix con lo scopo di spaccarci la pancia dal ridere. E dato che anch'io voglio infondere in voi il buonsenso, l'umorismo di ciò che è involontariamente osceno, perché i film volontariamente trash non mi interessano. A cosa servono? A niente. Perché il vero trash fa ridere solo quando è involontariamente assurdo, altrimenti chi se ne frega. E quindi, per fortuna che esiste Netflix e vi giuro, ho visto di quelle cose aberranti, però andiamo con ordine. Dovete guardare questi film, se non li avete visti, guardateli. Se li avete visti, ditemi qual è stato il momento che mi ha fatto più ridere, perché secondo me sono veramente delle cose abominevoli. Allora, di uno ve lo cito e basta, non ve ne parlo, perché ho già registrato la puntata degli ultimi film visti in questo periodo, e quindi ve ne parlo lì, ve lo cito e basta, dicendovi che cos'è a grandi linee. Teen Spirit. È una commedia teen abominevole su questa tizia che è una bitch, no? È la classica reginetta popolare della scuola, che però per un problema risibile muore durante il ballo di fine anno, e quindi per non finire all'inferno viene messa alla prova nell'aldilà, deve trasformare la pusciata della scuola nella reginetta del ballo. È una cosa che non... Vabbè, ma le parleremo. Un altro film su cui purtroppo non mi soffermo, perché l'ho visto troppi mesi fa e non me lo ricordo, granché, tranne gli eventi più trash che ora vi descriverò, è... Vi devo cercare il regista, perché non me lo ricordo assolutamente, perché... Perché non penso neanche che sia una persona influente nel cinema, cioè non l'avevo mai sentito nominare. Adesso scopriamo che ha fatto dei grandi capolavori. Ok. È James Foley, il regista. Vediamo cosa ha fatto nella sua vita. Cazzo, ha vinto il leone d'oro, in verità. Oddio, è il regista di 50 sfumature di nero? Ma come il leone d'oro? Ma per cosa l'ha vinto? Vabbè. Fatto sta che... Fatto sta che io ho visto questo suo film che si chiama Fear. Fear è un film del 96, che è una cosa... What the fuck? Nel senso che la trama in sé è di una banalità sconcertante, nel senso che la classica storia è della ragazza acqua e sapone, che sembra un clone di Mandy Moore. Non so se ve la ricordate Mandy Moore. È quella che cantava Candy. Voleva fare la versione poraccia di Britney Spears, ma fallendo miseramente. È uguale. È uguale a Mandy Moore, ma non è Mandy Moore. Mandy Moore farà i passi dell'amore come attrice. E niente, viene stalkerata da questo qui. Lei si innamora di questo, che però è, pur essendo un ragazzo falsamente sensibile, in realtà è un criminale psicopatico. E mi ricordo solo due... Solo due scene, veramente, che io piangevo. Piangevo da ridere. Andrebbero viste, però ve le racconto per farvi rendere conto. C'è questa scena in cui lui, tipo, per far capire, per il regista, per farci capire quanto lui si è ossessionato da lei, c'è questa scena con tanto di musica suspense che sale, di lui allo specchio, con gli addominali, inquadratura strategica sugli addominali, ovviamente Christina Kipperi ante Litteram, questo qua è allo specchio, a far non si capisce cosa, sembra che si stia autoinfliggendo delle ferite, perché si vede lui che si taglia. Così, il problema è che dopo, lui si guarda allo specchio, c'è l'inquadratura allo specchio, che ci mostra che lui si è inciso sugli addominali, oddio, la scena più brutta che abbia mai visto, no, non era più brutta perché dopo ci arriviamo, era la più brutta prima di vedere quei film di cui vi parlerò alla fine, si è inciso sulla pancia Nicole, che è il nome della protagonista, Nicole Forever, Forever, col quattro, Eva. E va super seria la scena, tipo lui è lì così, con Nicole Forever e sottofondo, tipo una musica di quelle di suspense, tensione, no, per crearti l'ansia, ma io avrò fatto, non so quante volte, tasto indietro, rewind, per vederla dieci volte di fila, io stavo piangendo da ridere, mi stavo stupidendo tantissimo, così come nello stesso film, c'è un'altra scena, in cui lui, per minacciare lei, lei ha un cane, in casa sua, ok, la scena descritta, potrebbe dire, no, poverino il cane, ma, anche io sono sensibile, alle morte degli animali, nei film, però questa scena è girata, talmente di merda, che mi ha fatto ridere, cioè lui, per tipo, minacciarla, per farle capire, quanto è pericoloso, le ammazza il cane, e lo decapita, ok, non si vede questa cosa, si sente solo, se non mi sbaglio, si sente solo il cane, che ulula, perché lei è in casa, è rintanata, e ha nella porta, quella finestrella, che serve per far entrare, uscire i cani, no, e tipo, lui, le butta dentro, attraverso la finestrella, la testa del cane, il problema è che poi, la regia, per crearci i suspense, ma io ho riso, fa tipo uno zoom, uno stacco sull'asse, tipo, tun tun tun, così, bruttissimo, io, io stavo malissimo, cioè, piangere e ridere, un altro film fondamentale, che ho cercato di vedere con i miei amici, convincendolo, convincendolo a vederlo tutto, ma si era fatta una certa, abbiamo deciso di spegnerlo, dovevamo recuperare assolutamente, perché secondo me, è una trasciata apocalittica, è Il cane pompiere, è tipo il classico film di famiglia o sceno, tipo quelli che andavano di moda negli anni 90, con i cani che fanno mille cose, ed è, tipo, Air Bud, quei film lì orrendi, strappalacrime brutti, ed è una storia di questo cane, che in realtà è una star di Hollywood, poraccissima, con tipo questo collier di diamanti, con il ciuffola e Elvis, no? Che si ritrova a fare il pompiere, perché girando una scena di un film, in cui è sull'elicottero, tipo, non ho capito, cade, e la troupe lo crede morto, in realtà dopo finirà per essere un normale cane di periferia, che diventerà un cane pompiere, perché lui sa fare le acrobazie. Abbiamo spento prima, ma abbiamo assistito a una delle scene più atroci, e i comic che abbia mai visto, c'è questa scena di un flashback, tipo il cane che sogna, che ha appena rotto con la sua fidanzata il cane, ok? C'è questa scena di lui, tipo, sdraiato sulla spiaggia, che fa il divo, con gli occhiali da sole, e sullo sfondo, girato come se fosse Baywatch, ok? e sullo sfondo, sulla spiaggia, c'è questa cagnolina, che sembrava una cagnolina molto discinta, tipo putt'n'pop, con tanto di rasta, sembrava Paris, sì, la versione canina di Paris Hilton, ok? E tipo, fa così, si muove a lenti con questi rasta, che le vanno intorno, una cosa trescissima, con musica, tipo soft porno, io stavo, il piangere, ma ora veniamo alle due chicche, che ho visto ieri, con dei miei amici, eravamo piegati, cioè abbiamo perso dieci anni di vita, da quanto abbiamo riso, dovrebbero essere due horror, ma non lo sono, sono due commedie, ho riso come un idiota, se voi avete paura degli horror, guardate questi film, perché comunque, sono, vorrebbero essere horror, ma sono delle commedie, ve lo giuro, e sono The Ouija Experiment, e The Ouija Experiment 2, girati da una persona, che non sa fare il suo lavoro, obiettivamente, penso che sia la peggior regia, che abbia mai visto, nella storia del cinema, cioè voi ditemi, allora il primo film, dovrebbe essere tipo, una sorta di finto documentario, sullo stile di Blair Witch Project, Paranormal Activity, ok? Su questi tizi inutili, stupidissimi, stupidissimi, che, devono, vogliono evocare gli spiriti, con una tavoletta Ouija, ok? Per far scatenare, questi spiriti, ve lo spoiler adesso, per far scatenare, questi spiriti, si usa, un esperiente, imbarazzante, allora, praticamente, loro devono seguire, tre regole, no? Affinché, gli spiriti, non possano far loro, del male, viene detto, più volte, che, loro devono assolutamente, salutare lo spirito, degli goodbye, ok? Quante volte lo faranno? Allora, loro usaranno la tavoletta Ouija, migliaia di volte, nel corso del film, e non saluteranno mai, 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 l'imbarazzo, oltretutto, dovresti essere sempre collegato, con l'osservatore, della tavoletta Ouija, no? Loro si alzano, fanno altre robe, poi, la prima parte del film, sembra uno di quei, di quei video orrendi, che, sul paranormale, che ci sono su YouTube, di YouTuber, che, li contano, li mettono su ad arte, per far credere, che siano veri, in realtà, sono delle porcherie, ecco, lo livello è quello, con la differenza, che i video di YouTube, durano 5-10 minuti massimo, quello lì, un'ora e mezza, che, preparatevi, è tutto finto documentario, il problema, è che, per farci capire, la storia, degli spiriti, con cui entrano in contatto, i protagonisti, si usa, l'espediente, più atroce, che ci possa essere, che, facendo fallire, il film, miseramente, sui suoi intenti, di finta documentazione, della realtà, perché, in un, allora, c'è questo personaggio, principale, ok? che avrà al massimo, 30 anni, ok? Lui va in soffitta, senza alcun motivo, in soffitta di casa sua, e trova un articolo, di giornale, sull'omicidio, di queste persone, con cui, è entrato in contatto, che è una cosa, che, da vedere, da com'è girato, da com'è l'ambientazione, di quello che verrà dopo, sono persone morte, negli anni 70, a dir tanto, quindi, prima che lui fosse nato, ok? sicuro, e allora, mi chiedo, perché questa persona, nata dopo gli anni 80, ha un articolo di giornale, di una cosa, successa dieci anni prima, oltretutto, per farci, non è che, cioè, era semplicissimo, a parte che nell'articolo di giornale, ci sono scritte anche cose, che il giornalista, non può sapere, del tipo, che stava, cosa stavano facendo, in quel momento, nella loro quotidianità, i personaggi, cioè, ma delle cose, veramente, che, qualsiasi articolo, ometterebbe, ma se tu stai facendo, un finto documentario, cosa devi fare? Devi, devi mostrare, devi semplicemente, riprendere, l'articolo di giornale, leggendo ad alta voce, quello che c'è scritto, non puoi creare, i flashback, i flashback, in un finto documentario, ma, ma, che lavoro fai, il regista? Cioè, ma, io spero che il regista, sia la stessa persona, che ha scritto la sceneggiatura, perché se c'è anche, uno sceneggiatore, sono due le persone, da incolpare, vabbè, gli attori, i poverini, inope, che sono stati presi, raccattati, non so dove, sono degli attori atroci, pessimi, fatto, sai che c'è questo, flashback imbarazzante, io purtroppo, non voglio spoilerarvi il finale, perché la classica scena, che se la racconti, poi la fa vedere, perde, io, vi giuro, il finale, è il finale, più brutto, ma allo stesso tempo, più bello, della storia del cinema, io ho perso, vent'anni di vita, a guardarlo, da quanto riso, cioè, l'avrò visto in sequenza, ventimila volte, voi, vi prego, se non avete sbattato, di vederlo intero, voi, schippate su Netflix, tutto il film, fino ad arrivare, agli ultimi cinque minuti, guardate, e piangete con me, spettacolare, il seguito, invece, è ancora peggio, è ancora peggio, perché proprio, sembra che non si sia impegnato, proprio nessuno, cioè, mentre prima, cioè, il primo, era involontariamente trash, ma si vedeva che c'era un intento di fare un horror, più o meno serio, nel senso, un finto, un nuovo paranormal activity, appunto, che peccava in sceneggiature sbagliate, effetti speciali orrendi, recitazione orrenda, regia orrenda, tutto orrendo, però, comunque, se messo in mani, esperte, poteva venire fuori un horror brutto, perché è brutto, ma, anche nelle premesse, è brutto, in quel senso, poteva venire nelle mani di qualcuno di esperto, un horror brutto, ma non così, epico, nella sua bruttezza, ok? Invece, nel secondo, che c'è lo stesso regista, lo stesso cast, non si sono neanche impegnati, allora, proprio, il peggio del peggio, gli attori che sono gli stessi, recitano ancora peggio, la regia è ancora più brutta, la sceneggiatura è ancora più atroce, gli effetti speciali, fanno ancora più schifo, tant'è che tipo, ci sono questi fantasmi, che si presentano come se fossero dei petoni, fanno proprio, e escono le nuvolette, io mi chiedo, ma, oltretutto, c'è un'altra scena qui, che mi ha fatto super ridere, questa ve la posso raccontare, però, andrebbe vista, praticamente, c'è un personaggio chiave, ok? che è un texano, un ranger texano, che, che dovrebbe essere il buono, no? Chi viene a soccorre dei protagonisti, che sono in una situazione un po' meh, solo che per far capire che lui in realtà è cattivo, quindi quello lì è il colpo di scena, questo ranger si toglie il cappello, si mette di spalle, no? Sembra una pubblicità della L'Oreal brutta, si mette di spalle, toglie il cappello, gli esce tipo una chioma, che poi, ovviamente, scuote la testa, in Rale, ti mostra la sua lucentezza, Pantene for Life, si gira, e fa tipo uno sguardo da Rockstar Truce, e sembra, ve lo giuro, non mi ha messo il minimo timore, perché sembra, il sosia brutto, del cantante dei Nickelback, io non so cosa dire, è meraviglioso, guardatevi, guardate questi film, fatemi sapere se c'è altro di orrendo, su Netflix, ma a questi livelli, è non brutto e basta, non me ne frega niente, questi livelli, che fanno proprio ridere, voglio questo tipo di film, e fatemi sapere se li avete visti, se li guarderete, io vi saluto, e alla prossima, ciao ciao, aiuto, Grazie a tutti,